Negli ultimi anni Gdynia, città nel nord della Polonia, è stata al centro di un ambizioso progetto di pianificazione della mobilità sostenibile. Il vice sindaco ha raccontato ad Euronews quali sono i fattori più importanti nella gestione della città. Investimenti nel trasporto ecologico, filobus, autobus elettrici. Vogliamo che il trasporto sia moderno, ma soprattutto sicuro. Si tratta anche di creare collegamenti frequenti in tutta la città. Inoltre vogliamo sviluppare la nostra app mobile, permettendo ad ogni residente di scegliere il mezzo di trasporto più ecologico e conveniente. Gli attivisti locali apprezzano il lavoro del comune, ma ritengono che si debba fare ancora di più per migliorare la qualità della vita. Lukasz Piesewicz è un consigliere distrettuale indipendente. Ci sono grandi incongruenze quando si tratta di progetti di mobilità. Alcuni progetti stanno andando avanti, ma altri, come quelli per la mobilità in bicicletta, sono fermi. Gdynia non costruisce piste ciclabili dove è necessario, ma solo dove può sostenersi con i fondi europei. Lo vediamo nelle cifre. Gdynia ha attualmente 700 auto ogni 1000 abitanti. Ogni anno la quota di spostamenti con i mezzi pubblici diminuisce. Investimenti come la costruzione di un parcheggio sotterraneo nel centro della città non faranno altro che accentuare questa tendenza negativa. L'impatto ambientale delle iniziative cittadine è importante. Ma ai progetti verdi di comune e attivisti, tra cui ad esempio quello per avere più alberi nelle strade, si affiancano piani per la costruzione di strade che prevedono il disboscamento. Si tratta di una circonvallazione che prevede il taglio di un gran numero di alberi pianificato da anni nell'area più vicina al centro. Sono i nostri polmoni verdi. L'impatto del cambiamento climatico è ormai una realtà. Per contrastarlo, gli attivisti sottolineano che è necessario il lavoro congiunto del comune e dei residenti. Siamo nel bel mezzo di questa crisi. Dovremmo raccogliere le idee migliori e lavorare insieme per una città migliore, più sana, preparata alla crisi e più resiliente. Gdynia è famosa per le sue iniziative cittadine. Nonostante le divergenze, l'amministrazione locale, i cittadini lavorano insieme per migliorare la qualità della vita. Grazie a tutti.